L'Aureana Cilento è un piccolo comune nel cuore del Cilento di origine longobarde. Per molti secoli, grazie alla sua posizione strategica, è stata considerata la capitale del Cilento. E la testimonianza che resta tutt'oggi sono i numerosi palazzi nobiliari presenti sul territorio. Sono tre le frazioni del comune, Archie, che non vi mostreremo, Matonti e San Martino. Il video dura una decina di minuti, ma l'abbiamo lasciato così lungo perché gli scorci dei veicoli e le vedute aeree sono spettacolari. Ragazzi, buona visione a tutti e per i residenti all'estero, Laureana, San Cono, Matonti e San Martino sono così oggi come forse allora. Buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.